La Corte Costituzionale deciderà sul referendum per l'abolizione della legge Fornero il 20 gennaio. È una buona notizia? Noi avevamo chiesto che venisse rinviata la decisione in quanto le contradduzioni della Lega per motivare la fattibilità del referendum fossero esaminate. È successo un fatto molto particolare ovvero che non c'è stato notificato l'atto che certificava la data di esame dell'ammissibilità del referendum, per questo abbiamo chiesto un invio e ci auguriamo che venga rispettata la volontà di più di 500.000 cittadini e di milioni di italiani che vogliono abolire quella drammatica e vergognosa riforma fatta sulla pelle dei pensionati e dei cittadini di questo paese.